Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci. Ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano partendo da Biancavilla, nel Catanese, dove i carabinieri hanno eseguito oltre 20 misure di prevenzione personale nei confronti di soggetti protagonisti di due risse avvenute in città. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha eseguito oltre 20 misure di prevenzione personale richieste nei confronti di altrettanti soggetti che si sarebbero resi responsabili di gravi disordini e di condotte violente commesse in aree cittadine centrali affollate da numerosi passanti e avventori di ogni fascia d'età. In particolare i militari della stazione di Biancavilla hanno notificato il cosiddetto Daspo Willy a 10 persone, tutte denunciate per rissa aggravata e lesioni. Si tratta della violenta e prolungata lite avvenuta lo scorso 11 novembre nella centralissima piazza Roma a Biancavilla che ha visto contrapposte due famiglie. Lite è scaturita a causa della relazione sentimentale tra un giovane di origini marocchine e una ragazza albanese osteggiata dalla famiglia di quest'ultima. Il provvedimento, per ragioni di pubblica sicurezza, vieterà a loro l'accesso e lo stanzionamento nei pressi dei locali pubblici e di intrattenimento di Biancavilla dove si è appunto sviluppata la rissa. In caso di violazione delle disposizioni è prevista la reclusione fino a due anni e una multa fino a 80 mila euro. Per un'analoga vicenda, gli stessi carabinieri di Biancavilla hanno inoltre eseguito ulteriori 12 misure di prevenzione di avviso orale nei confronti di altrettanti biancavillesi deferiti per rissa aggravata, lesioni, minacce e danneggiamento in relazione a un altro scontro tra famiglie avvenuto il 15 ottobre 2022 nel quartiere Ardizzone e successivamente presso l'ospedale di Biancavilla. In quell'occasione la lite, avvenuta alla presenza di bambini e minorenni utilizzando come armi mazze da baseball e manici di scopa, sarebbe scaturita da una confidenza di una ragazza 22enne al proprio fidanzato, circa delle presunte attenzioni morbose che la stessa avrebbe subito dieci anni prima dallo zio. Il provvedimento in questione prevede a carico dei destinatari l'obbligo di tenere una condotta conforme alla legge, la cui violazione prevede l'applicazione della più stringente misura della sorveglianza speciale. Le azioni intraprese dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania si inquadrano nel quotidiano impegno dei militari dell'arma volto a garantire a cittadini e famiglie la serena fruizione degli spazi pubblici e dei luoghi di maggiore aggregazione, nonché la possibilità di divertirsi in maniera sana e pulita. Una triste storia arriva dal palermitano, si tratta di un 29enne che era scappato dalla guerra in Ucraina con la sua famiglia e purtroppo è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Terrasini, come detto nel palermitano. Il 29enne Denis Artemenko ha finito la corsa con la sua auto contro un muro. Era appunto a bordo di questa autovettura, ha perso il controllo del mezzo, mezzo che è andato completamente distrutto in questo tragico impatto. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico hanno estratto dalle lamiere il giovane e i sanitari del 118 hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Notizia di cronaca da Palermo doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati e invece finita in una violenta rissa tra ex parenti e amici, con un giovane rimasto ferito con due coltellate al fianco e adesso ricoverato in gravi condizioni. Il fatto è accaduto la notte scorsa nel rione Tommaso Natale a Palermo, dove alcuni ragazzi tra i 18 e i 19 anni hanno avuto una discussione che poi è degenerata. Uno dei giovani che aveva semplicemente accompagnato un contendente è stato raggiunto da due fendenti al fianco, è stato poi soccorso dal personale medico del 118 e trasferito in ospedale alla Villa Sofia. Le sue condizioni sono piuttosto gravi. Sul tentativo di omicidio sta indagando la squadra mobile della Questura. Notizia da Giarratana nel Ragusano, dove i carabinieri hanno individuato e denunciato l'autore di una serie di furti in città. Si tratta di un 22enne catanese. È stato individuato e deferito all'autorità giudiziaria un 22enne catanese ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti nel centro abitato di Giarratana. I fatti risalgono all'11 gennaio scorso, quando la titolare di una nota salumeria sita appunto a Giarratana denunciava ai carabinieri della locale stazione un furto perpetrato nel proprio esercizio commerciale. Quella stessa notte, i gnoti avevano forzato la porta d'ingresso in alluminio penetrando nel locale e asportando salumi e denaro contante per una somma complessiva di circa 2000 euro. Attraverso un'articolata attività di indagine, con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i carabinieri di Giarratana sono riusciti a individuare il responsabile del furto. L'autore, identificato in un giovane catanese che aveva agito in concorso con altri due soggetti ancora ignoti, si era reso responsabile nella stessa notte anche del furto di sei catalizzatori asportati da altrettante autovetture parcheggiate nelle strade di Giarratana. I militari della locale stazione, a conclusione di indagini durate un mese, hanno potuto attribuire al 22enne la responsabilità dei reati e procedere a deferirlo in stato di libertà all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. A Monreale una ventenne è stato arrestato per estorsione. I carabinieri lo hanno beccato mentre riscuoteva il pagamento di una partita di droga. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Monreale hanno arrestato, con l'accusa di tentata estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un ventenne palermitano già noto alle forze dell'ordine. Dapprima intervenuti presso l'abitazione di un 26enne del luogo, che aveva appena segnalato il tentativo di accedervi da parte di ignoti, i militari dell'arma hanno appurato che la vittima in realtà conosceva il presunto autore del fatto e che proprio il ventenne, dopo contatti telefonici avuti nel frattempo con il 26enne, sarebbe tornato nel giro di poco tempo per riscuotere il pagamento di una partita di droga non pagata. I carabinieri hanno quindi atteso l'arrivo del giovane, trovandolo in possesso, dopo averlo identificato e perquisito, di 24 dosi di crack, di quasi 600 euro in banconote e monete di vario taglio, oltre a una carta prepagata sottratta alla 26enne qualche giorno prima, a titolo di risarcimento per la sostanza stupefacente non pagata. Insieme al ventenne, è raggiunto presso l'abitazione della vittima anche un 48enne denunciato per il porto ingiustificato di un bastone di legno. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Merese ha convalidato l'arresto del ventenne, disponendo per lui l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente, sequestrata, sarà campionata e analizzata dal competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo per le rituali, verifiche qualitative e ponderali. Ad Alcamo, invece, nel Trapanese, una 65enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. È accusato di aver commesso un omicidio nel 2008 e finirà di scontare la sua pena, appunto, in una cella. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Alcamo hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di un uomo originario di Castelvetrano di 65 anni, condannato a 18 anni di reclusione per il reato di omicidio commesso nel 2008 a Campobello di Mazzara. Nel mese di agosto di quell'anno i familiari della vittima ne avevano denunciato la scomparsa, le immediate ricerche dei carabinieri hanno permesso di trovare l'autovettura dell'uomo abbandonata in una zona periferica di Campobello di Mazzara e con evidenti tracce di sangue. Le successive attività, poste in essere dai militari, avevano consentito di rinvenire all'interno di un garage il cadavere dell'uomo, un imbianchino cinquantenne con una vistosa ferita al cranio. L'esame autoptico aveva consentito di comprendere che l'uomo era stato attinto da un colpo di pistola alla testa. Le successive indagini, poste in essere dai militari dell'arma, avevano consentito di individuarne l'autore nell'odierno arrestato, che al fine di sottrarsi alla cattura si era dato alla fuga nel nord Italia. Il coordinamento tra le compagini territoriali dei carabinieri aveva poi permesso di rintracciare l'uomo a Milano, sottoponendolo a fermo di polizia giudiziaria. Le risultanze acquisite dall'arma erano poi state pienamente accolte dall'autorità giudiziaria e hanno portato alla condanna dell'uomo a 18 anni di reclusione. Il movente dell'omicidio rimane tuttora ignoto. A poca distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere, però, i carabinieri avevano scoperto lo stesso giorno dell'omicidio una piantagione di marijuana in un terreno riconducibile alla vittima. L'arrestato, già sottoposto alla detenzione domiciliare, dovrà ultimare l'espiazione della pena presso la casa circondariale di Trapani per un residuo di un anno e un mese. La polizia ha effettuato dei controlli a Messina e nella provincia messinese e nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, i luoghi della cosiddetta movida. Nove persone sono state denunciate con i poliziotti che hanno elevato anche sanzioni per oltre 140 mila euro. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Proseguono i servizi predisposti dal questore di Messina e operati dalla Polizia di Stato a Messina e in tutta la provincia nei principali luoghi di aggregazione giovanile in fasce orarie serali e notturne. In un'ottica di supervisione della movida per innalzare i livelli di sicurezza dei cittadini e al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, sono stati numerosi i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dal personale della questura di Messina a partire dall'inizio dell'anno, con l'impiego di oltre 170 operatori della Polizia di Stato complessivamente impegnati sul territorio. Prezioso il contributo fornito dal personale specializzato della divisione Polizia Amministrativa della Questura, che unitamente ad altro personale della Polizia di Stato, con il coordinamento di un funzionario di Polizia su strada, ha effettuato mirati controlli presso gli esercizi commerciali maggiormente interessati dalla movida. In particolare sono 18 i locali sottoposti a controllo nel periodo compreso tra il 7 gennaio e il 12 marzo 2023. Nell'ambito di tali attività di verifica, in particolare, si è proceduto alla denuncia di nove soggetti rispettivamente per violazione delle prescrizioni della licenza del questore, disturbo del riposo delle persone, ovvero per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico, spettacolo o trattenimento. Infatti è stata accertata in primis la regolarità di diverse attività dove erano in corso serate musicali o danzanti, mentre in altri casi è stata constatata l'apertura abusiva di locali in cui si svolgeva attività di intrattenimento non autorizzata. In due esercizi, invece, sebbene in possesso di licenza, è stata contestata la violazione alle prescrizioni imposte per il superamento dei limiti di capienza del locale e per le cattive condizioni igieniche dei servizi. Sanzionato amministrativamente il titolare di un locale per aver impiegato abusivamente un addetto al servizio di controllo, sanzionato a sua volta in quanto sprovvisto di apposito decreto prefittizio. Sono stati numerosi gli interventi messi in atto con l'ausilio di personale dell'ARPA della Protezione Ambientale Regione Sicilia, grazie ai quali è stato appurato, attraverso specifici rilievi fonometrici, il superamento dei limiti di emissione di rumore ambientale e il relativo impatto acustico. A margine della complessiva attività sono state contestate diverse sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 140 mila euro. Nel corso dei suddetti servizi, in particolare, sono state identificate in totale 467 persone e sottoposte a controllo 199 autovetture, elevati 46 verbali per violazioni al codice della strada e sequestrati tre veicoli. Infine, sono sei soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente e che sono dunque stati segnalati alla competente autorità amministrativa quali assuntori abituali. Minaccia e maltratta la propria compagna, il fatto è avvenuto a Enna e per un uomo violento è stato disposto il divieto di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Personale della Polizia di Stato, squadra mobile della Questura di Enna, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP di Enna a carico di un pregiudicato indagato per violenze e maltrattamenti in famiglia commessi in danno della compagna convivente e aggravati dall'essere stati commessi in presenza di figli minori. La donna, negli ultimi tempi, ha presentato diverse denunce per i maltrattamenti subiti a opera del convivente raccontando di essere stata oggetto di insulti, vessazioni, minacce, percosse e umiliazioni aggressioni e violenze da parte del compagno. Il clima di terrore e sopraffazione ha avuto il suo apice nel pomeriggio dell'8 marzo scorso, giorno della festa della donna, quando la vittima, al culmine dell'ennesima lite, è stata scaraventata a terra dall'ex compagno, colpita con calce alla schiena e al fianco destro, fino a riportare la frattura di una costola. In esecuzione dell'ordinanza, dunque, la squadra mobile di Enna ha allontanato l'uomo dall'abitazione coniugale, prescrivendo di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri dall'ex compagna e dalla casa in cui avvenivano le violenze. È tutto, chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. A più tardi.